Una buona serata da Bruno Angelini, La Voce di Roma. Vi prego, toglietevi le mani. Chi? Luigi Di Maio. Anzi, cittadino Luigi Di Maio. Come fai a spiegare al mondo che l'MSI avrebbe approvato i redditi di cittadinanza? No, dimmi questo. Ma tu cosa ne sai della nostra storia? Della storia sociale? Questo è quello che voglio capire da te. Quindi, se sei riuscito a mettere sul carro il Partito Comunista Italiano e il Movimento Sociale Italiano sul reddito di cittadinanza, sciacquati la bocca, sciacquati la bocca, perché tu non sai cosa vuol dire. Quell'MSI, Movimento Sociale Italiano, che si è battuto per pensioni alle casalinghe e non all'assegna ai rome clandestini, è stato voluto da Almirante. Colui che aveva, ricordati bene Luigi Di Maio, cittadino, almeno ti facevi chiamare così prima, ora onorevole, oppure vicepremier, dopo due papi, anche due vicepremier. Eh? Le scarpe bucate. Sì, hai capito bene. Giorgio Almirante, non ti permettere, sciacquati la bocca, ad infangare un nome, una persona, un esponente politico importante della nostra società. Le voglio bene, Bruno Angelini, La Voce da Roma, vi abbraccio a tutti quanti, come ogni sera. Ciao, belli, ciao, ciao.